Ciao a tutti carciotti e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Ita Volevo iniziare questo episodio su una nota positiva perchè come vedete ho fatto la seconda parte della farm di cobblestone ovvero del generatore di cobblestone, ora manca la parte dove andrò a mettere la tnt e la piscinetta ma non lo faremo ora perchè? perchè sono arrivati all'episodio 666 questo episodio 666 quindi faremo una cosa non so di preciso ancora cosa so che faremo qualcosa non so di preciso cosa visto che in molti mi hanno diciamo chiamato su questa cosa del 666 sul fare un episodio speciale come avete visto questa settimana non è uscito un altro episodio, cioè è uscito un episodio lunedì e poi basta, sta uscendo questo oggi perchè ho anche un annuncio abbastanza importante da farvi anzi mi metto in webcam grande probabilmente questo sarà uno degli ultimi episodi di Minecraft Ita non sarà l'ultimo ovviamente perchè non avrebbe senso lasciarlo così però finirò magari la farm di cobblestone poi farò la farm d'oro e poi penso che fermerò Minecraft Ita perchè ho capito che su youtube ho capito che su youtube io non voglio fare videogiochi io ho scoperto una una mia passione recentemente da un po' che mi segue sulle Instagram Stories lo sa a me piace tantissimo cucinare piace tantissimo cucinare e ho deciso di non di non so se trasformare questo canale in un canale di cucina o aprire un canale da zero però mi sono rotto del gaming non mi interessa più ormai io gioco a Minecraft da sette anni cioè sei anni da tantissimo tempo e non mi da più niente e quindi ho deciso di fare questo cambiamento e visto che questo è l'episodio 666 ho deciso di farlo oggi questo annuncio lo so che molti di voi non la prenderanno bene però è una cosa mia è il mio percorso e spero che molti di voi continueranno a seguirmi e a supportarmi ho detto che mi sto un po' emozionando anche perchè comunque Minecraft Ita eeeh no vabbè è un feciò d'aprile no non ce la faccio non ce la faccio alla parte in cui ho detto mi sto emozionando ho detto eh vabbè qua capiscono tutti che è una cazzata no vabbè oggi per chi non se ne fosse reso conto è il primo d'aprile probabilmente fino a quando uscirà questo video già 3000 scherzi vanno fatto però vabbè ho detto vabbè proviamoci facciamolo uno anche noi non finisce Minecraft Ita tranquilli o almeno non nel breve periodo dillo che ti è venuto un colpettino dillo benvenuto nel canale di cucina di Surreal Parodi cotto e minato a parte di scherzi credo che ormai cioè Minecraft Ita fa ormai parte di eeeh delle serie di YouTube Italia penso sia la serie più longeva di YouTube Italia cioè la serie che va avanti da più tempo in tutta YouTube Italia eeeh se io la interrompessi penso che si creerebbe tipo un buco nero nel 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 continuum spazio temporale che distruggerebbe l'umanità quindi è il mio dovere davvero Avenger non eeeh interrompere questa serie comunque speriamo che se sia notte posso dormire non posso dormire va bene allora io direi che come prima cosa potremmo andare nel nether adesso questo è l'episodio 666 lo so che è iniziato con una nota scherzosa ma mi piacerebbe costruire qualcosa su un tema eeeh infernale e come poterlo fare se non andando nel nether ma prima di andare nel nether voglio farmi una piccola scorpacciata di gunpowder e carta perché come vedete per finire con la roba lì ho dovuto fare un paio di giri e ho finito tutti i miei rocket e non va bene ragazzi non va bene questi sono anche quelli con la fredduration 3 che durano un po' di più ma sono comunque pochissimi ok visto che non ci servono quelli a lunga gittata ne facciamo tanti di quelli piccolini così non abbiamo problemi sta anche facendo notte mannaggia te ora ragazzi quello che mi piacerebbe fare eeeh qui nel nether oddio oddio no calma no cosa sta succedendo cosa sta succedendo torniamo indietro subito perchè io ho fatto io ho fatto lo scherzetto d'aprile il primo d'aprile io ho fatto il mio pesce d'aprile se ora fa il pesce d'aprile anche minecraftita mi incazzo se si sono bugati i chunk mi incazzo ok meglio così infamone allora in realtà non ho in mente niente di troppo straordinario di troppo spettacolare perchè non ho il tempo materiale di fare una statua gigante di un diavoletto o non lo so di una specie di di diablo che cazzo ne so io quindi la mia idea era organizzare qualcosa all'entrata del nether nel senso io entro nel nether vado di qui arrivo di qua cioè non ci vado praticamente quasi più di qua perchè quando vado nel nether per lo più è per andare poi nel land però nel dubbio stare qui è una buona posizione per un potenziale statuotto come voglio fare questo statuotto? avete presente la statua che ho fatto per il cerchio infernale quello dell'overworld quello l'ho preso da da internet come avevo detto ma l'ho preso da una pagina in cui è pieno di queste statuette tutte piccoline tutte carucce che secondo me sono perfette per quello che voglio fare io cioè creare un emblema dell'inferno e e addirittura sarebbe fargli delle piccole corna quindi tipo con dei cobblestone walls fargli delle cose che vanno verso l'alto anche se poi sicuramente sembrerà o un power ranger o come minimo tipo uno dei cavalieri dello zodiaco sicuro però oltre a quello come vedete non ci vogliono tanti blocchi saranno si o no una quindicina di blocchi ma rende molto da l'effetto di una statua è una persona è un rappresenta un essere umano quasi e quello che possiamo fare noi è ricostruirlo in chiave nederiana cioè utilizzare magari dei nether bricks o cose di questo tipo un po' di ossidiana di sicuro prendiamo un po' di scalette ne devo fare altre prendiamo delle fence anche se le cobblestone wall sono più belle prendiamo delle fence nel caso prendiamo dei magma block della netherrack prendiamo un po' di blocchi e con questi blocchi faremo cose questa è l'idea faccio solo un po' di scale in più perchè me ne servono tantine e ho tanti blocchi del nether dovrebbero bastarmi in teoria perchè non è che ora devo fare una statua gigante come dicevo sarà una cosa simbolica piccolina per fare una un episodio speciale per questo 666 anche se uscendo il primo d'aprile già è speciale ok diciamo che più o meno ho capito come lo voglio fare ho anche trovato un un'arma che un diablo potrebbe usare che è il famoso tridente che in realtà il tridente è associato a Nettuno e al dio del mare però se in ogni cartone animato tipo quando c'è il diavolo lo inquadro con il forcone o comunque con una specie di tridente che ammazza tutti anzi che tortura tutti quindi devo solamente ricordarmi bene come ho fatto sta statuetta ok diciamo che ho preso un po' le misure poi in realtà non sarà uguale a quello probabilmente cambierò anche la posizione delle braccia magari lo metto comunque in ginocchio non in ginocchio oh mio dio sono il tuo schiavo di qua di là no, ginocchio nel senso pronto ad attaccare quindi un senso di dinamicità questo è quello che voglio cercare di fare e lo metterò qui lo metterò qui non so se è abbastanza alto spero di sì fare una cosa di questo tipo scaviamo qua dentro una specie di zona in cui il nostro amico potrà stare guarda quanto bello quarzo purtroppo non ho con me un piccone con fortuna però lo prendo comunque molto volentieri ok direi che come antro ci può stare poi considerate che tutto attorno magari ci mettiamo delle belle decorazioni degli archi con delle luci e delle cose allora io ho bisogno di nether brick iniziamo a piazzare nether brick io voglio che tenga altrimenti nella mano sinistra quindi avrà di qua il piede destro prendiamo subito anche delle scale qua sopra ci mettiamo la scala in realtà poi un blocco di qua in realtà per il petto volevo fare una cosa con l'ossidiana quindi no cazzo non ho messo dal posto sbagliato poi di qua ci mettiamo l'altra gamba ok oggi è troppo dritto mettiamo una scala qui tipo una scala al contrario qua ci mettiamo della cobblestone per coprire tipo così ok così sembra più un ginocchio in realtà ragazzi questa ossidiana non mi piace per niente quindi o la farò tutto di no ma sono scemo quindi la farò o tutta di nether brick o utilizzerò i magma block prima di vedere i magma block come stanno di sicuro è un look più infernale dell'ossidiana non mi sembra per niente infernale invece qua tutto lava rocce cioè il magma block è una bella cosa per craftare questo tipo di roba poi mettiamo di qua il braccio più piccolino che sarà tipo così con una scala qua dietro cazzo sto finendo le scale forse è troppo lungo sai lo accorciamo perché di qua mettiamo invece il braccio intero bello lungo uno più in là ok così come vedete è una posizione di attacco perché c'ha un braccio in posizione tipo di difesa quasi l'altro bello allungato e in questa mano andremo a mettere il nostro bellissimo e simpaticissimo amico tridente io ho solo un'altra scala mi sa che non servono più scale per fortuna andiamo qua sopra perché bisogna fare anche la testa per fare la testa però io devo creare uno spazio per la testa quindi vuol dire che ci deve essere uno spazio libero anche su tutto questo atrio perché altrimenti non ha senso se non si vede la testa se non si vede il tridente e non ha senso proprio quindi facevo una cosa molto caotica sarebbe da fare spazio della tnt ma per fortuna la nethera che essendo così friabile io con il piccone riesco a dare lo stesso effetto perché va da caso no no la mia costruzione no il mio ponte via dove il mio arco via tu vada retro porca puttana no 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 mannaggia te ma guarda che cosa ha fatto il mio ponte dai vaffangala stupido ghast per fortuna la cobblestone non si distrugge però almeno ha creato un po il mood ho chiesto delle esplosioni e è arrivato il ghast visto basta chiedere a volte nella vita detto questo cosa si la testa piacerebbe farla anche questa di magma block però non so come potrebbe mai venire nella vita deve stare comunque verso avanti quindi sarebbe una cosa di questo tipo qui sembra un golem dell'inf... no no oddio oddio non lo so forse farei solo la testa a questo punto se faccio solo la testa così ha senso e tutto questo lo leviamo e mettiamo un header brick normale così potrebbe avere senso anche se sembra la cosa povero oddio c'ha il suo perché però eh ragazzi ho sbaglio poi delle fence sai che forse 8 fence non bastano io devo fare una cosa di questo tipo devo arrivare per terra poi devo salire qua sopra di uno caso forse sono giusti 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 andiamo di qua salgo di uno poi con i cobblestone ball faccio una cosa di questo tipo uno uno due tre qua sopra ovviamente ci deve essere più spazio di così perché altrimenti non si capisce neanche che è un tridente e poi io salgo ancora se ce la faccio e qua ci metto gli ultimi tre cos- nooo si collegano non dovrebbero collegarsi cazzo l'alternativa sarebbe provare a fare una cosa di questo tipo levo uno di questi al centro e ci metto un cobblestone ball di questi possiamo provare a venire come è venuto vediamo come è venuto oddio sembra una croce satanica no no leva leva ok effettivamente forse il tridente non è una cosa così facile da fare per ora ci limiteremo una lancia oddio qua è tutto bugato aia aia brutto fuoco brutto adesso mettiamo del fuoco in giro anche se mi è finito accendendo quindi devo andarlo a rifare poi ci ho messo anche un bel po' di lava dietro così sembra sommerso nella lava perché per quanto possa essere caruccio questo golem non essendoci una differenza tra le gambe e il petto non è come gli stone bricks capito che c'è ci sono vari blocchi che posso usare sono davvero limitato in questo modo risolviamo anzi vi dirò di più farò una prova a usare gli stone bricks anche per la testa mi piace con i magma block ma devo verificare che se lo faccio tutto scuro magari viene meglio ragazzi sarei tentato di farlo addirittura tutto di magma block ma il problema è che non c'ho le scale di magma block quindi non saprei come farlo dovrei farlo un ibrido come se fosse una specie di armatura e ora c'è tutta questa lava in mezzo che mi rovina la festa però devo... devo levar la lava devo limitare la lava più che altro faccio così limito la lava così si leva e non perdo i blocchi e al posto dei nether brick metto i magma block e vediamo cosa viene fuori per tentativi ragazzi come sempre tipo lasciamo le periferie come se fossero tipo dei guanti un'armatura non so come spiegarlo tipo le spalle la mano quello è un guanto questa la spallina forse mi conviene mettere il magma block sulla parte sotto della testa come se fossero gli occhi ma forse al contrario però facendo così già mi piace di più ragazzi già mi piace di più perchè c'è molto più contrasto tra i blocchi ok si di così così mi piace di più quindi lo lasciamo così apriamo la lava dicevo apriamo la lava anzi mettiamo un blocco qua sotto va così si sviluppa ancora di più guarda che bello il guerriero del diablo per curiosità proverò a mettere una shaders anche se essendo nel nether tutto luminoso non vi garantisco niente oddio questa qui forse un po' troppo è sparatissimo sparatissimo sembra fatto tutto di un blocco unico sembra nato da è un golem nato dalla lava altro che diavolo perchè purtroppo ragazzi non posso mettergli le corna come vedete è troppo piccolo se gli metto le corna diventa scemo quindi potrebbe diventare il nostro nuovo golem lava born tipo dragon born tipo no tipo skyrim no che bello tipo super luminoso ma è figo ragazzi non ditemi di no comunque per questo video è tutto io mi chiedo tantissimo per la visione scusate per quel pesce d'aprile dovevo farlo vi invito a lasciare mi piace sempre su questo video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto sempre su twitter, instagram, facebook ovunque voi vogliate e vi saluto ciao a tutti a tutti ciao a tutti